ciao ragazzi oggi vediamo se ci riesco devo tagliare a metà questo specchio non un taglio perfetto ma semplicemente per portarlo in discarica l'ho smontato da un anta d'armadio quindi ovviamente guanti addosso e occhiali ho inciso la superficie dello specchio con un io lo chiamo diamante non so se il nome giusto adesso non trovo ecco è un aggeggio come questo che ha una rotellina qua sopra in acciaio molto duro che riesce a incidere la superficie dello specchio sotto esattamente sotto a questa incisione ho infilato un pezzo di filo elettrico che va da una parte all'altra quindi facendo pressione da una parte dall'altra di questo segno lo specchio dovrebbe rompersi senza andare a pezzi vediamo l'altra parte pezzo di prima sono riuscito diciamo se anche questo questo non è andato tanto bene perché come si può vedere si è spezzato anche qua si è spezzato per il per il lungo non dove avevo fatto il segno comunque c'è anche da dire che il pavimento sotto non è perfettamente dritto se il pavimento fosse dritto diciamo che ci sono buone probabilità di fare un taglio longitudinale senza creare questa spaccatura qua come si può vedere quest'altro pezzo si è invece rotto abbastanza bene per oggi con i miei esperimenti direi che è sufficiente un saluto a tutti ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti